Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archevi Parla. Sono qui con un rumor per monorifer zombie, secondo me un po' bruttino. Arriva dal buonissimo Alaix, che probabilmente ha scavato dentro il codice del gioco e ha trovato questa scritta. Operatore bonus, effetto bonus, esclusiva di Epidemia, che probabilmente sarà il nome di questa modalità zombie, che sappiamo essere MW Zombie, ma magari dentro si chiamerà Epidemia, MW Zombie stessa o robe del genere, comunque un'esclusiva per questa modalità. Per chi non lo sapesse è successa una cosa simile con MW2 per DMZ, per cui c'erano alcuni bundle, ovviamente a pagamento, che però offrivano dei piccoli bonus. Sottolineo piccoli bonus, che però comunque potevano in qualche modo variare il gameplay. Questo per dire un piccolo elenco di alcuni che erano acquistabili, ed erano tutti intorno ai 10-15, massimo una ventina di euro, che è circa il prezzo classico per tutti quanti questi bundle, a seconda della quantità dei contenuti presenti dentro. E la questione è che per quanto questi bonus siano piccoli, sono comunque delle cose in più, quindi chi acquista questi bundle è in qualche modo avvantaggiato. Ad esempio, spunare direttamente con un Wav, spunare con uno zaino più grande, addirittura con già due piastre corazzate montate addosso, per quanto ripeto, non sia un bonus mostruoso, è comunque un vantaggio, e essendo DMZ da PvP, lì è veramente grosso. Qua su Zombie, per quanto sia PvE, molti per dire l'hanno confrontato alle vecchie Gabulgam o Elisir, è però una cosa un pochino diversa. Per dire, i tempi di Black Ops 3 e Black Ops 4, con meccaniche come Gabulgam e Elisir, erano sia acquistabili con soldi veri, ma anche ottenibili in game. Chiaro che era molto, molto più lungo ottenerli in maniera, diciamo, legit, piuttosto che mettersi lì con la carta di credito, strisciare, e comprarsi tantissime Gabulgam a caso, però pian piano uscivano le robe che ci interessavano, ed erano veramente forti. Oggi per dire su PC tutti quanti, io stesso l'ho fatto, moddano tantissime Gabulgam perché non ha senso spendere soldi o stare lì centinaia di ore per farmare tutto quello che ci serve per magari fare un record, un easter egg o cose del genere. Ma c'è da dire che lì è un pochino diverso perché magari per iRound e easter egg e robe del genere è comunque tutto spezzettato in diverse classifiche, ognuno fa un attimo quello che vuole, se magari ci interessa fare un piccolo record, che sia una speedrun o simili. Qua è chiaro che sono soltanto vantaggi PvE, che non è che togli nulla a nessuno, ma comunque non mi fa impazzire il concetto di averci un vantaggio in questa modalità zombie semplicemente pagando un bundle. Faccio un esempio estremo, mettono un bundle da 20€ in cui spawni sempre con il jug. È chiaro che è una cosa che comunque fa veramente comodo, non è totalmente essenziale, non è una roba che distrugge totalmente il gioco perché ancora una volta è PvE, ma è una cosa comunque bruttina perché se uno vuole questo vantaggio, che comunque è forte e fa comodo, tocca strisciare la carta, comunque mettere i soldi e spendere quei 10, 15 o 20€. Sinceramente come concetto a me non fa impazzire. Magari si esagera dicendo che è un concetto pay to win, ma in parte secondo me lo è, perché se hai un vantaggio rispetto ad altri giocatori soltanto pagando, allora non ci siamo. Per tanto tempo abbiamo detto che tutti questi bundle, questi battle pass e simili, sono cose estetiche, quindi ci interessa soltanto il giusto e su quello sono totalmente d'accordo. Ma quando invece hai un vantaggio rispetto ad un altro player, ancora una volta, per quanto sia soltanto PvE, è comunque un vantaggio rispetto agli altri, soltanto perché hai pagato. Quindi se questa cosa dovesse essere implementata su MWZombie, non ne sarei comunque contento. Sarei curioso di quanto spingerebbero per avere questi vantaggi, quello che ho detto prima del jug è un esempio totalmente estremo, ma come era già su DMZ da tipo un wav o qualcosina fin da subito, non sarà gigantesco, ma comunque un passettino avanti rispetto a quello che è il player di default, che non ha totalmente nulla. Sotto il tweet del buon Margo Network che ne ha parlato, alcuni hanno fatto un esempio estremo di addirittura sponare con una Raygun, una Wunderwaffe e quello veramente troppo, d'altri altri invece hanno detto come prima, che appunto è molto simile al sistema di Gabblegum e Elisir già visto in passato. Su questo personalmente la mia opinione è combattuta, perché non sono assolutamente d'accordo su questa cosa, e non penso che metterei ad acquistare un bundle, giusto per avere un piccolo bonus su uno zombie, di cui comunque appunto non fa una differenza mostruosa, uno dei guantaggi giganteschi. Ma ripenso magari come è stato su Cold War, che c'erano stati dei potenziamenti con i cristalli e quelli non ottenibili in game, immaginate se quel tipo di potenziamenti così forti, fossero disponibili soltanto a chi shoppa certi bundle. Lì staremo veramente esagerando. Se quest'anno i bonus sono veramente minuscoli, come appunto era su DMZ, che erano comunque dei bonus rispetto ai player normali, saremo ottimi a vedere, ma non vorrei che spingessero veramente troppo a riguardo. Su zombie, quanto meno per adesso, tutte le microtransazioni sono sempre state, o delle mappe aggiuntive che lì ci può stare, come erano in passato, i DLC, o tutto quello che è estetico, vediamo i bundle di Cold War, che sì sono carini, ma non sono assolutamente necessari, obbligatori da comprare. Qua neanche sarebbero obbligatori, ma comunque se uno vuole avere tutti i vantaggi possibili, e giocare bene fin da subito, potrebbe essere un attimo attirato su questi bundle, e come sempre il costo, secondo me è un attimo restrittivo. 10 euro, 15 euro, 20 euro per ogni singolo bundle, se uno ne compra anche giusto un paio, iniziano a diventare veramente tanti soldi. Io l'ho fatto per dire su Cold War, lo dico tranquillamente, ma ovviamente è uno bundle estetici, e come al solito comunque ognuno spende i propri soldi esattamente come vuole, ma io sinceramente, non ne sarei eccessivamente d'accordo a questa implementazione. Voglio quindi sapere ragazzi invece le vostre opinioni, se voi sareste d'accordo di vedere alcuni piccoli bonus di zombie, un attimo a pagamento, come bonus operatori di certi bundle, che come ho detto prima, già è successo in passato su DMZ, e un attimo se non è discusso, poi tutto quanto è passato in secondo piano, anche perché il bonus non era gigantesco. E anche qua su zombie non lo sarebbe, ma proprio il concetto in sé mi fa storcere il naso. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia utile e vi sia piaciuto, tutte quante le informazioni e le fonti sono qui sotto in descrizione, trovate anche se volete tutti quanti i miei social, Instagram, Twitch e il canale Discord, ci vediamo come sempre, a un prossimo video, un abbraccio, ala. a un prossimo video,